anticipazioni spoiler la promessa benvenuti sul mio canale inizialmente ragazzi si viva lasciatemi un like di supporto a questo video se vi è piaciuto e attivate la campanellina così non mi perderete nessun prossimo video nelle prossime puntate della promessa manuel scompare nel nulla e sale così la preoccupazione nel palazzo sappiamo che manuel ha un grande una grande passione per gli aerei e questa volta il suo hobby potrebbe diventare pericoloso nelle prossime puntate infatti vedremo il ragazzo lasciare il palazzo in piena notte e mettersi proprio alla guida del suo aereo sembrava tutto normale ma manuel dopo ore non torna a casa cosa spinge manuel a sparire nel nulla senza dare sue notizie lui scriverà un biglietto a jana invitandola a scappare con lui lontano da tutte e tutti per poter stare finalmente insieme la mancata risposta della ragazza farà pensare che il suo sia o no ma in verità la cameriera non ha mai ricevuto quella lettera la situazione di manuel si aggraverà quando la guardia avvertirà la famiglia di un incidente aereo nei dintorni uno scontro nel quale potrebbero essere state coinvolte anche il veicolo di manuel dopo giorni la famiglia messa al corrente di una notizia tragica il ragazzo manuel sarà dato ufficialmente morto